Ciao a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. In particolare oggi torniamo a parlare di classici. Se mi seguite da un po' sapete che i classici sono tra le mie letture preferite e che mi piace moltissimo condividere con voi qui sul canale le mie impressioni di lettura. Del classico di cui parliamo oggi, in realtà vi ho già accennato qualcosa nel wrap up del mese di luglio, ma non ho pubblicato prima questo video perché non volevo appesantire la programmazione del mese di agosto, mese durante il quale ho pubblicato video un po' più leggeri, spensierati, vacanzieri, insomma. Però settembre è cominciato, la scuola è cominciata, quindi oggi parliamo del giocatore di Fyodor Dostoyevsky. Il giocatore è un romanzo che ha una storia molto particolare, che è essa stessa un romanzo. Del resto Dostoyevsky è noto per aver vissuto una vita piuttosto movimentata. Il giocatore è stato scritto nel 1865 e Dostoyevsky non stava affatto passando un bel periodo, anzi aveva già perso la moglie, aveva perso il fratello e dal punto di vista sentimentale, amoroso, stava ormai naufragando, era ormai naufragata la sua relazione con Polina Suslova. Era poi sommerso dai debiti di gioco e per giunta era stato costretto a firmare con l'editore Stellovsky un contratto che lo aveva messo letteralmente con le spalle al muro. Stando a quel contratto Dostoyevsky avrebbe dovuto consegnare all'editore entro il novembre dell'anno successivo un nuovo romanzo. Se Dostoyevsky non avesse tenuto fede all'impegno l'editore avrebbe incassato i diritti su tutte le sue opere sia passate che future per i successivi nove anni. Peccato che Dostoyevsky avesse già firmato un contratto con una rivista per la pubblicazione di Delitto e Castigo a cui stava lavorando proprio in quei mesi. Un mese prima della scadenza Dostoyevsky si confida con un amico e insomma dice di avere effettivamente in testa l'idea per la stesura di un nuovo romanzo ma di non aver scritto neppure una riga. A questo punto gli amici si propongono di aiutarlo e di scrivere a più mani il romanzo seguendo ovviamente le sue indicazioni, seguendo le sue direttive. Ma Dostoyevsky rifiuta perché non voleva assolutamente consegnare all'editore un romanzo che non fosse scritto di suo pugno. E a questo punto gli viene suggerito di tentare l'impossibile e di assumere una stenografa per cercare perlomeno di accorciare i tempi di stesura del romanzo. Effettivamente Dostoyevsky segue il consiglio, assume una stenografa e non solo riesce a portare a termine entro un mese in 27 giorni la stesura del suo nuovo romanzo ma la stenografa diventerà la sua nuova moglie e quindi scocca la scintilla. Ebbene il romanzo scritto da Dostoyevsky in queste circostanze così difficili in soli 27 giorni è proprio il giocatore. Il romanzo è ambientato in Germania in particolare nella cittadina di Rulettenburg una località ovviamente inventata e in cui si muovono diversi personaggi. In primis il protagonista e narratore della storia Alexei Ivanovich il quale è un personaggio che per certi versi è molto simile al protagonista di Delitto e Castigo Raskolnikov. Del resto i due romanzi sono stati scritti praticamente insieme in parallelo. Entrambi sia Alexei che Raskolnikov sono due giovanotti di cultura. Alexei Ivanovich è un insegnante, un precettore, mentre Raskolnikov è uno studente universitario. Entrambi però sono due perdigiorno nel senso che non hanno il pieno controllo della propria vita. vivono alla giornata e spendono, sperperano il poco che hanno. Vivono quindi in condizioni di povertà ed entrambi cercano un'occasione di rivalza, un'occasione di riscatto. Alexei Ivanovich cerca questa occasione e cerca di riscattarsi, di risorgere dalle ceneri attraverso il gioco d'azzardo. Mentre Raskolnikov invece cercherà di imprimere una svolta alla sua esistenza attraverso l'omicidio della vecchia usuraia. Entrambi andranno incontro ad un destino tragico. Alexei Ivanovich lavora per il generale, che è un nobile russo impoverito. Il generale ha due bambini piccoli, due figli piccoli, di cui Alexei Ivanovich è l'insegnante, il precettore, e una figliastra più grande, Polina, di cui Alexei è innamorato, senza però essere ricambiato. A sua volta il generale è innamorato pazzo di una dama di origine francese, mademoiselle Blanche, la quale ha un passato piuttosto oscuro, di certo non irreprensibile, e che è chiaramente alla ricerca di un matrimonio vantaggioso. Ecco perché il generale attende con ansia l'arrivo di un telegramma che gli annunci la morte di sua nonna. Sua nonna viveva ancora in Russia, vive ancora in Russia, è lì per tirare le cuoia e il generale spera che la donna muoia presto in modo tale da poterne ereditare le sostanze. Solo in questo modo, infatti, mademoiselle Blanche avrebbe consentito a sposarlo. Vi sono poi altri personaggi, in particolare vi è De Grieux, che è un francese, a cui il generale deve dei soldi e quindi a sua volta spera che la nonna muoia in modo tale che il generale possa saldare i suoi debiti con lui. E poi c'è Mr. Astley, un gentiluomo di origine inglese, che è amico di Alexei Ivanovic, ma a sua volta innamorato di Polina. Insomma, tutti attendono questo famigerato telegramma dalla Russia che annunci la morte della nonna. Ma colpo di scena, non solo la nonna vive vegeta, non solo gode di ottima salute, ma si prende la briga di prendere un treno e di fare visita al generale a Rulettenburg. Vi lascio immaginare lo stupore e lo sgomento del generale nel momento in cui vede la nonna scendere dal treno. Ma come se non bastasse, la nonna si fa accompagnare al casino e scopre la roulette, scopre il gioco della roulette e sviluppa una vera e propria ossessione per il gioco d'azzardo e rischia di scommettere, di lapidare tutto il suo denaro sotto lo sguardo atterrito del generale di De Grieux e di Mademoiselle Blanche. Il giocatore, come dice anche il titolo stesso, analizza alla perfezione i meccanismi che stanno alla base dell'ossessione per il gioco d'azzardo. Infatti i protagonisti di questo romanzo sono convinti ad un certo punto di aver trovato l'equazione in grado di svelare i numeri che usciranno alla roulette e pensano di essere in grado di prevedere i numeri che usciranno alla roulette o comunque si recano alla roulette perché quel giorno si sentono di vincere si sentono fortunati e invece poi magari perdono tutto quanto. Vi sono poi delle scene in cui i giocatori scommettono continuamente su un numero perché sono convinti che man mano passino i turni di gioco man mano sia sempre più probabile che quel numero esca e quindi scommettono, perdono, perdono e perdono finché alla fine desistono e proprio quando desistono tocca esce proprio quel numero e quindi si ritrovano a dire ecco vedi avevo ragione avrei dovuto continuare a scommettere su quel numero e quindi riprendono a giocare e scommettono anche quello che non hanno. Ovviamente Dostoevsky ne sapeva qualcosa perché lui stesso soffriva di questa ossessione era un ludopatico se così si può dire infatti era soffocato dai debiti accumulati proprio a causa del gioco d'azzardo tra l'altro subito dopo le nozze lui e la sua novella sposa sono costretti a scappare proprio perché inseguiti dai creditori proprio a causa dei debiti che Dostoevsky aveva accumulato giocando d'azzardo quindi Dostoevsky è stato sì in grado di descrivere alla perfezione i meccanismi che portano il giocatore a sviluppare una vera e propria ossessione per la roulette senza però essere capace di liberarsene anche la storia tra Alexei e Polina è ricalcata sulla storia d'amore tra Dostoevsky e la sua Polina un amore che è più simile ad una fissazione, ad un'ossessione infatti Alexei Ivanovic nel romanzo gioca a fare il servetto obbediente di Polina disposto ad obbedire a tutti i suoi ordini e la ama e la odia allo stesso tempo tant'è che in un passaggio all'inizio del romanzo dice di volerla uccidere ma allo stesso tempo che è disposto a morire per lei la forza di questo romanzo sono sicuramente i personaggi uno più spassoso, uno più divertente dell'altro in primis la nonna che è la classica signorotta anziana che tutti aspettano tiri le cuoia ma che in realtà sta meglio di tutti gode di un'ottima salute e comanda tutti a bacchetta tra l'altro la nonna rappresenta proprio lo spirito russo incarna proprio lo spirito russo perché è una donna volitiva una donna energica nel momento in cui fa il suo ingresso nella storia lo fa in maniera plateale, trionfale ma è anche in un certo senso irrazionale, ingenua meno calcolatrice di quanto siano altri personaggi vi è poi il generale che è un ebete totale è il classico uomo un po' anzianotto che ha perso completamente la testa e la lucidità per una donna più giovane che vuole usarlo per impossessarsi del suo patrimonio vi è poi De Grieux, il francesino Dostoevsky evidentemente non aveva una gran simpatia per i francesi perché i francesi se la passano malissimo in questo romanzo sono descritti come ipocriti quindi come borghesi, schiavi del denaro, schiavi del guadagno che però indossano una maschera e fingono di essere uomini di cuore uomini di classe l'unico personaggio positivo di cui non si ride in queste pagine è Mr. Hustley che invece è inglese evidentemente a Dostoevsky gli inglesi andavano più a genio che i francesi ed è l'unico personaggio capace diciamo di sentimenti puri di sentimenti positivi infatti è molto legato ad Alexei e si offre anche di aiutarlo in più occasioni e lo stesso farà anche con Polina insomma il giocatore mi è piaciuto tanto perché è un libro oggettivamente divertente che attraverso una storia divertente con delle scene comiche e che grazie a dei personaggi spassosissimi affronta una tematica che però ha dei risvolti tragici quindi come vi dicevo anche nel video che ho pubblicato qualche settimana fa nel wrap up di cui vi parlavo prima ovviamente il riso che provoca il giocatore è un riso amaro perché il destino a cui andrà incontro Alexei Ivanovi c'è un destino tragico bene ragazzi il video di oggi finisce qui e in queste settimane sto leggendo delitto e castigo altra lacuna che dovevo assolutamente colmare sbizzaritevi nei commenti e fatemi sapere se siete amanti o meno di questo autore qual è il vostro romanzo preferito di Dostoevsky se avete letto il giocatore che cosa ne pensate in generale lo consiglio a chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo autore ma teme i suoi romanzi più famosi come appunto delitto e castigo e fratelli Karamazov che hanno una mole direi molto significativa il giocatore invece è un romanzo piuttosto breve che quindi può essere utile al lettore per approcciarsi per la prima volta come vi dicevo prima alla lettura di questo autore mi raccomando se siete arrivati fin qui lasciate un pollice in su e se vi piace leggere, vi piacciono i libri vi interessate di letteratura siete nel posto giusto se già non l'avete fatto quindi iscrivetevi al canale attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti e se vi va seguitemi su instagram sono a library anche lì io mando a tutti un bacione un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video ciao